Anche se la situazione sia in Abruzzo che a livello nazionale è migliorata rispetto a 12 mesi fa, le tasse continuano a penalizzare le attività delle imprese artigiane, come emerge dalla ricerca Comune che vai, fisco che trovi, realizzata dalla CNA e giunta la sesta edizione. Maglia nera Roseto degli Abruzzi, mentre il comune più virtuoso è quello di Spoltore, come ha evidenziato a Pescara l'autore dello studio e responsabile nazionale dell'area fiscale della Confederazione Artigiana Claudio Carpentieri, il quale ha illustrato i risultati insieme al Presidente e al Direttore della CNA Abruzzo, Savino Saraceni e Graziano Di Costanzo. Comuni abruzzesi esaminati sono stati quelli di Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo, Lanciano, Vasto, Avezzano, Sulmona, Montesilvano, Spoltore, Giulianova e Roseto degli Abruzzi ed è stato possibile individuare in quale giorno dell'anno un piccolo imprenditore inizia a lavorare per sé, anziché per lo Stato. In Abruzzo il Tax Day Free varia dal 29 luglio di Spoltore e L'Aquila al 17 agosto di Roseto, che si piazza al 130esimo posto della classifica nazionale. Il comune con la maglia nera è Roseto degli Abruzzi con praticamente 63,1% di reddito che se ne va in tasse, mentre il migliore è Spoltore col 57,8%, ma è una lotta tra poveri ovviamente perché siamo comunque intorno sempre al 60%, il problema è che il 60% del reddito delle nostre imprese se ne va in tasse e quindi toglie la possibilità dell'impresa di avere la voglia di produrre quel reddito e sicuramente non incentiva quindi l'aumento della produttività delle imprese e dell'economia locale. La pressione fiscale in un certo qual modo non solo rende difficili le attività, ma in un certo modo disincentiva anche gli investimenti e rende anche più difficile l'operatività di quelli che poi rimangono a lavorare sul territorio. Noi facciamo tanto e mettiamo le nostre capacità, le nostre competenze, ma anche la nostra disponibilità a disposizione sapendo che comunque è un lavoro che dobbiamo svolgere insieme tutti. Bisogna ridurre la pressione fiscale, è la misura più efficace per combattere l'evasione insieme per esempio alla moneta elettronica di cui in questi giorni si parla, perché noi abbiamo un handicap rispetto ai grandi paesi europei, Germania e Francia in primo luogo, di 20 punti. Quindi un'impresa italiana paga il 60% di quello che guadagna contro un'impresa francese e tedesca che paga il 40-42%. Se vogliamo competere di più in Italia e vogliamo competere di più nel mondo, questa deve diventare la priorità del governo e delle amministrazioni locali. Grazie.